Napoli Roma, quarto round, match di campionato fondamentale per la corsa al secondo posto, gli azzurri devono vincere per accorciare le distanze dalla Roma e per giudere ancora nella Champions League diretta. Un'azione novitale, la formazione del Napoli, non c'è Giorginio, neanche in panchina l'italo brasiliano, porto Cogro alla vigilia dell'attacco influenzale a centrocampo la Coppa Svizzera in Ergenali. Per il resto squadra annunciata con il ritorno del Pipita Isarin al centro dell'attacco e di Albion in difesa. Confermata anche la formazione dell'Ariomanti, la quale manterranno tutti i tempi, i giocatori di Rossi e tutti tutta avanzata nella formazione capitalina. Sarà destro, giocante, 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 giocante. Secondo posto.